Barietti dal 1923 rappresentante ufficiale del marchio Fiat per Piacenza e Provincia a Piacenza in via Maculani 42 Oggi presenterete questo progetto per, insomma è importante, abbiamo sentito con Danese di Ausea soprattutto per le persone in difficoltà che abitano Ma diciamo che Acer si presenta sempre di più non solo come gestore del patrimonio immobiliare che le è stato affidato, di proprietà o che le è stato affidato dei comuni ma anche come punto di riferimento per gli utenti dei servizi di residenza economica e popolare Acer in questo caso, grazie all'aiuto di Ausea, ha aderito volentieri a questa sperimentazione sul portirato sociale perché riteniamo che possa essere un inizio per garantire all'interno, in questo caso di due caseggiati una presenza costante di una persona che possa fare da tradunione fra gli utenti delle abitazioni e Acer stessa in modo non solo da comporre eventualmente in modo bonario eventuali situazioni conflittuali che possono nascere come nascono spesso nei condomini ma anche cercare di prevenire, dando un segnale ad Acer, le eventuali possibilità di conflitto, di tensione oltre a garantire attraverso, sempre tramite Auser, i tele salvavita la possibilità per sei persone in condizioni particolari, single e quant'altro di avere un contatto diretto con Auser e quindi una garanzia, una tranquillità maggiore rispetto alla loro vita di tutti i giorni Possiamo chiedere dove verrà attivata questa sperimentazione e quali sono le problematiche? Allora, la sperimentazione verrà attivata in due caseggiati uno in via Capra, nella zona di Barriera Roma, tanto per intenderci e uno a Barriera Farnesiana, che non è molto lontano da lì è quella di Via Le Patrioti, tanto per intenderci saranno due appartamenti utilizzati a modi portineria anche le criticità non le sappiamo sappiamo le opportunità che questo intervento, come dicevo prima, può offrire insomma, saranno due persone che abiteranno in questi appartamenti e che forniranno gratuitamente la loro opera di portierato e di supporto ai coinquilini in questo caso e a Auser Grazie mille! Grazie mille!